in diretta su Radio Fantasy Radio Fantasy la radio a pezzi intanto è stato cerittato anche qui ho visto veramente di tutto ho visto cose che voi non potete credere Alex Schwarz pronto ciao Alex si si Alex Schwarz la radio a pezzi tu italiani buonasera ragni a pezzi si dove ci chiami Alex e noi aspetta Oliver tu monta il trattore noi siamo al carnevale di Umpa Loompen Umpa Loompen è una fabbrica di cioccolato frazione di Ruth che è cioccolato qui prende il giro di cioccolato è quello dei vini in cartone tu pensa ai vini in cartone io penso al cioccolato sei al carnevale di Umpa Loompen scusi mio fratello è scemo lui non sa qui d'attrattore noi ha detto fermi noi siamo col caro stiamo filando lungo strada di Umpa Loompen è veramente bello ma dove si trova Umpa Loompen? Umpa Loompen è frazione di Ruthen tu non sa? dov'è la Ruthen? è tutto alto adige giustamente alto adige Alex Schwarz non ci può chiamare da là Umpa Loompen come è? mi sembra che i problemi con geografia perché non sapere mica tanto hai fatto scuole alte bravo bravo è vero abbiamo tutti i problemi con la geografia come è il carnevale di Umpa Loompen? è veramente bello tutti stanno lì aspettando tutti questi applausi tutti con vostri in mano festeggiati tutti raggiù insomma tutto è bello noi abbiamo chi è questo? è sempre mio fratello ovvio lui non vuole guidare il trattore allora lui vuole fare il pagliaccio sopra il carro noi avere il carro di Kinder fetta latte perché noi di Pasquale me ne intendo poi sai di noi il latte sappiamo farlo noi su tu sai farlo quanto gente c'è un palun? isa adesso guarda Oliver scusa qui questi ridono di nostro paese allora Oliver se vuoi non piacere io parlo con i puzzi torniamo a noi per piacere perché se no fermare stilata per voi non va mica tanto bene allora noi siamo sopra il carro di Kinder fetta latte davanti a noi abbiamo il carro di gran vino in cartone che magari si ronco dei sassi ah ronco dei sassi allora non sono io come no dietro a noi lei lei manda lei manda in giro a vendere vino ma non sa mica di avere un carro allegorico sì sì madonna noi facciamo sponsor a un palump siamo grandi fornitori della città di un palump guarda che guardi che non c'è solo crisi in grigia come ha detto questo amico Beppi cattivo Alex Marz allora senti un momento dietro abbiamo la crosta dietro la crociera dietro abbiamo la crosta crociera no si fermi no no si fermi aspetti che le dico perché fermo perché purtroppo alla guida c'era francibile che ha bloccato filata dietro ciao siamo stati scordiamo qua Alex Marz da Lumpa Lumpa facciamo un bel applauso perché Johnny per la prima volta in regia da Radio Pezzi hai già l'intervento signori Radio Pezzi Pezzi su radio olla su radiofantasy Grazie a tutti.